parliamo del grafico della funzione y uguale ad elevato a meno x meno e elevato a meno 3x possiamo scrivere la funzione in questo modo tramite un raccoglimento totale come y uguale ad elevato a meno x per 1 meno elevato a meno 2x è una funzione definita per un x appartenente reali quindi il suo cicone va da meno infinito a più infinito nello suo del segno si pone fx maggiore uguale a 0 e notiamo che il primo fattore non si annulla mai è sempre positivo il secondo fattore è nullo quando 1 meno e elevato a meno 2x risulta essere uguale a 0 naturalmente questo è verificato quando l'esponente risulta essere nullo perché sappiamo che la 0 fa 1 1 meno 1 fa 0 quindi x uguale a 0 annulla questo fattore inoltre esso è positivo quando naturalmente intendo la funzione è positivo quando è positivo il secondo fattore quindi poniamo 1 meno e elevato a meno 2x maggiore uguale a 0 risolviamo questa disequazione diciamo esponenziale che è verificata ricordiamo che 1 corrisponde a 2 elevato a 0 per meno 2x minore uguale a 0 x maggiore uguale a 0 quindi diciamo che da 0 in poi la funzione risulta essere positiva qui rappresento sinteticamente quanto detto cioè da 0 in poi una funzione positiva da 0 in giù la funzione negativa e il cicone va da meno infinito a più infinito della nostra funzione rappresentiamo qui le parti di quadrante nelle quali è rappresentabile il grafico della funzione si campisce la zona in cui non si rappresenta il grafico qui invece indichiamo la funzione che passa dall'origine la derivata prima riporto qui la funzione la regola è derivata del primo fattore per il secondo non derivato più il primo non derivato per il secondo derivato la derivata di elevato a meno x è meno e alla meno x è una funzione composta quindi è l'esponenziale per la derivata di meno x che è meno 1 la derivata di 1 meno e elevato a meno 2x è praticamente derivata di 1 che è 0 derivata di meno e alla meno 2x corrisponde a meno se stessa e alla meno 2x per meno 2 quindi abbiamo come risultato nella parentesi due volte e alla meno 2x sviluppiamo naturalmente la funzione derivata e alla fine raccogliendo abbiamo e meno e elevato a meno x più tre volte elevato a meno 3x la derivata prima si può scrivere anche in questa forma raccolto meno e alla meno x notiamo che si annulla quando è nullo il termine tra parentesi perché e alla meno x non si annulla mai e quindi risolvendo questa equazione che poi ricordiamo diventa e alla meno 2x uguale a un terzo qui c'è la definizione di logaritmo meno 2x è logaritmo in base a di un terzo ma il logaritmo di un terzo si può scrivere come logaritmo di 1 meno logaritmo di 3 il logaritmo di 1 ricorderà lo studente che è nullo vale 0 quindi abbiamo che x è il logaritmo di 3 fratto 2 rappresenta il punto in cui si annulla la derivata prima è un punto stazionario ecco a questo punto lo studio del segno risulta essere facile se pensiamo che la derivata è positiva quando il termine tra parentesi è negativo perché qui abbiamo un segno meno quindi se io risolvo sempre questa disequazione ricorrendo al logaritmo mi accorgo che per x minore del logaritmo di 3 su 2 la funzione derivata è positiva quindi la nostra funzione è crescente perché ricordiamo che laddove la tabella di monotonia dà un segno della derivata positiva la funzione cresce dove negativa la funzione derivata la funzione decresce quindi questa è la tabella importante che ci dà la visione della crescenza della decrescenza della funzione il segno della derivata prima nel punto 0 essa si annulla ed è un punto di massimo relativo vedremo in seguito che è anche un punto di massimo assoluto quindi calcolo della derivata seconda per la ricerca dei punti di flesso e dei punti di e dei intervalli in cui la concavità è rivolta verso l'alto verso il basso si applica la stessa regola utilizzata per la derivata prima e naturalmente arriviamo a scrivere che la derivata seconda è e alla meno meno x per 1 meno 9 per e alla meno 2x e se si annulla quando x risulta essere pari al logaritmo di 3 quindi questo è il famoso punto stazionario in cui si annulla la derivata cioè chiedo scusa è un punto di flesso in cui si annulla la derivata seconda corrisponde a valore x uguale al logaritmo di 3 ecco in questa tabella io ho riportato il segno della derivata seconda qui è negativa qui è positiva qui essa si annulla quindi è un punto in cui andremo a cercare una tangente inflessionale qui la funzione è la concavità verso il basso qui verso l'alto qui si dice concava qui si dice convessa ecco qui riporto un grafico di massima diciamo che dà proprio la visione di quello che è la rappresentazione che uno poi dovrebbe saper fare naturalmente la funzione vediamo che presenta un asinto orizzontale a destra vedremo che verrà fuori y uguale a 0 come sentito orizzontale da un'operazione di limite per x che t da più infinito qui c'è questa tangente inflessionale che passa nel punto di flesso che corrisponde alla scienza x uguale al logaritmo di 3 del punto di flesso questa è la funzione che abbiamo rappresentato questo è un punto cioè questo è un massimo assoluto ma è anche un massimo relativo non abbiamo minimi relativi abbiamo un estremo inferiore e abbiamo la concavità rivolta verso il basso fino al punto di flesso e poi verso l'alto al punto di flesso per x poiché tende a più infinito il limite per x che tende a più infinito la nostra funzione se eseguiamo l'operazione di limite viene 0 quindi y uguale a 0 è assinto orizzontale se faccio il limite per x che tende a meno infinito viene fuori una forma indeterminata che risolta risolta scrivendo in modo opportuno la nostra funzione da come valore meno infinito ecco riporto il grafico massimo assoluto y uguale a 0 è assinto orizzontale ricordiamo che il limite della derivata prima per x che tende a più infinito deve anche essa tendere a 0 x uguale al logaritmo di 3 è un punto di massimo assoluto tangente in flessione ricordiamo che si trova nel punto di flesso con questa equazione qui y meno y0 uguale a m per x meno x0 quindi x0 e y0 sono le coordinate del punto di flesso m e la derivata prima calcolata nel punto di flesso quindi io scriverò x uguale al logaritmo di 3 punto di flesso e scriverò l'equazione della tangente in flessionale naturalmente mancano alcuni dati per esempio manca come dato l'ordinata corrispondente a questa scissa quindi io prendo la funzione di partenza e sostituisco al posto di x il logaritmo di 3 lo faccio qui facendo i dovuti calcoli scopro che la funzione del punto x uguale al logaritmo di 3 vale 8 ventisettesimi l'ordinata la derivata prima nel punto x uguale al logaritmo di 3 facendo anche qui i dovuti calcoli ricordando che l'esponenziale elevato a meno logaritmo di 3 può essere scritto come elevato al logaritmo di 3 alla meno 1 perché diventa un esponente ed elevato al logaritmo di un numero in questo caso di un terzo equivale a un terzo come scrittura quindi questo equivale a un terzo la stessa cosa di casi qua corrisponde a un nono abbiamo che il risultato è meno 2 noni meno 2 noni rappenta il valore della derivata prima nel punto x uguale al logaritmo natura di 3 ovvero la pendenza della tangente inflessionale ecco l'equazione della tangente inflessionale che chiedeva naturalmente il problema calcolo della derivata prima della funzione inversa ecco la funzione inversa di questa funzione naturalmente qui noi stiamo considerando una x quindi questa è una x ricordiamo quindi x correggiamo questo simbolo e scriviamo naturalmente x quindi diciamo che si fa così quindi la derivata prima della funzione inversa calcolata nella rispettiva nel punto y con 0 ricordiamo e 1 fratto la derivata prima calcolata in x con 0 noi dobbiamo tenere presente che qui abbiamo naturalmente il valore y con 0 quindi teniamo presente che io qui sto considerando la scissa corrispondente al punto y 0 quindi io se voglio se sono interessato a calcolare la derivata della funzione inversa del punto y 0 che conosciamo devo fare questo tipo di calcolo 1 fratto f primo nel punto x uguale a 8 su 27 se torniamo un attimo indietro noi abbiamo calcolato 8 su 27 come il valore che la funzione assume per x uguale a logaritmo di 3 nel punto y quindi io direi qui c'è un piccolo errore qui stiamo parlando di y 0 quindi calco della derivata prima della funzione inversa nel punto y 0 questo è un valore che corrisponde naturalmente ad y 0 uguale a 8 su 27 quindi noi dobbiamo qui sostituire x con 0 corrispondente a quella ordinata stiamo parlando del punto di flesso quindi questa rappresenta l'ordinata del punto di flesso quindi qui ecco ricorreggiamo il tiro diciamo che la derivata prima della funzione inversa nel punto y 0 uguale a 8 su 27 è 1 fratto la derivata prima della funzione calcolare nel punto x con 0 quindi ricordiamo ancora una volta che qui riporto il valore x con 0 e qui riporto il valore y con 0 il risultato è meno 26 sesti allora con questa ultima slide abbiamo terminato la video lezione relativa allo studio di una funzione esponenziale ne eseguiranno altre come esercitazione fine della video lezione